La settimana è andata alla grande, vi parlo della base del Chark, stiamo facendo le ultime prove per domani, domani sarà una giornata molto interessante, molto particolare e promuoviamo la lotta contro l'inquinamento dei mari, che è uno dei problemi più grandi che dobbiamo e dovremo affrontare nel futuro più vicino e anche nello stesso presente. Sono felice di essere la voce di questo, sono felice di poter cantare e spero che possa servire in un certo senso per sensibilizzare le persone che ancora non sono a conoscenza di questo immenso problema, affinché la nostra generazione e le generazioni future possano vivere in un mondo più pulito e con meno problemi. Senza mai però scordarci che ci sono anche un sacco di cose bellissime che spesso non vengono sottolineate e che quindi dobbiamo tenere a cuore e promuovere ogni giorno, come appunto l'amore, l'amore per noi stessi ma anche per le altre cose e infatti domani sera sarà una serata volta appunto a promuovere l'amore per noi stessi e l'amore che abbiamo per il mondo. Quindi appunto sono felice di poter essere la voce di questo con anche gli altri ragazzi e cercheremo di fare il nostro meglio come abbiamo sempre cercato di fare e comunque vada ricordatevi sempre di splendere perché noi abbiamo la possibilità di fare tutto quello che vogliamo con i nostri sogni, la nostra determinazione e la nostra voglia di vivere. Quindi vi abbraccio, un bacione e ci vediamo domani. Ciao!